E' un bilancio importante quello tracciato nell'anno 2016 dal corpo di Polizia Municipale di Canosa e presentato nel corso delle celebrazioni per la ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale San Sebastiano. In materia di sicurezza urbana, ha dichiarato il Vice Comandante della Polizia Municipale il Tenente Colonello Francesco Capogna, la Polizia Municipale ha mediato per lo sgombro pacifico di sette case popolari occupate abusivamente, si sono avviati i censimenti di fabbricati ceduti a stranieri in assenza di contratti di affitto o denunce di ospitalità presso l'autorità di pubblica sicurezza, sono 33 i fabbricati controllati e merita anche di essere ricordata l'attività di vigilanza di quartiere, il cosiddetto piano antirapina avviato dal 6 dicembre al 31 dicembre 2016 e che ha visto la Polizia Locale vigilare su operatori commerciali considerati da valutazioni empiriche potenziali obiettivi sensibili per le rapine. Tra le specialistiche si è contraddistinta la Polizia Ambientale che è in concorso con la Polizia Statale ha terminato una complessa attività investigativa denominata Smoke City e con la quale si sono identificati gli autori dei reati di gestione e combustione illecita di rifiuti pericolosi. Attraverso le fototrappole mobili poi dal luglio 2015 al 31 dicembre 2016 sono stati individuati ben 192 illeciti relativi all'abbandono dei rifiuti, il pronto intervento invece ha gestito 76 incidenti stradali e la strada con maggior sinistrosità è la strada provinciale 2 dove si sono accertati 13 incidenti di cui due mortali. La Polizia Locale di Canosa ha anche effettuato 45 posti di controllo e 289 veicoli controllati. L'Ufficio Contravvenzioni invece ha gestito 2835 sanzioni alle quali si aggiungono le 1343 messe a ruolo e i 637 avvisi buonari per un totale di ben 4815 procedimenti sanzionatori. La specialistica a nona ha proseguito il vice sindaco Leonardo Piscitelli, assessore alla Polizia Municipale, ha presenziato i 45 giorni del mercato settimanale, ha prodotto 114 sanzioni di cui 49 al regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche, 9 multe per occupazione di suolo pubblico e 6 sanzioni per affissioni abusive. L'insieme di questi numeri ha concluso il sindaco Ernesto Lasalvi e dimostra in modo incontrovertibile un dato e la concreta presenza della polizia locale sul territorio.